All'FCS Center di Masoronco va in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale dei play-off nazionali del campionato Under-16 di Serie C, tra l'FC su tiro dell'Avellino con i bianco-rossi in completo nero a difendere successo per 2-1, conseguito nella sfida d'andata al partenio Lombardi del capoluogo Ioppino. Inizio di gara con i padroni di casa più propositivi, la squadra di Morabito costruisce un paio di belle occasioni ma non finalizza, al nono ci provano gli erpini con un diagonale di Buono neutralizzato da Bonifacio, quindicesimo cross teso dalla destra di Buonavia per la testa di Vranici, palla sul fondo, diciottesimo, nuova occasione FCS, conclusione di Buonavia respinta dal portiere, Fugaro non riesce a calciare in porta la retroguardia erpina. Si disimpegna, ventiduesimo, Fugaro calciata fuori aria, mancando di poco al bersaglio, ventiquattresimo, Laverino risponde con Donatiello, palla di poco a otto, trentesimo, imbucata centrale, tocco di Buonavia fuori di pochissimo, trentacinquesimo, palla in verticale per Costa che tocca bene e insacca l'1-0 alle spalle dell'estremo difensore ospite De Luca, quarantesimo, batti e ribatti in area di casa, conclusione alta di molto. Secondo tempo, terzo minuto, Costa per Buonavia, conclusione e palo alla destra di De Luca, quinto, potente conclusione di Costa dal limite, palla sopra la traversa, settimo, padroni di casa ancora vicino a raddoppio con il tiro di Vranici che si stampa sul palo alla sinistra del portiere ospite. Quattordicesimo, l'arbitro ravisa gli estremi per concedere il calcio di rigore all'Avellino, calcio a Donatello dagli 11 metri, Buonifacio intuisce ma non ci arriva, uno a uno, ventesimo, bianco Rossi in gol con Vranici che però è in fuorigioco, ventunesimo, batti e ribatti in area. Irepina con palla in corna, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Margoni trova il pertugio per insaccare il 2 a 1 alle spalle di De Luca, ventiquattresimo, altro palo dei padroni di casa con Vranici su punizione dal vertice sinistro. Dall'area ospite, ventisettesimo, occasione Irepina con Villanova, Gander salva sulla linea, trentasettesimo, invitante palla sui piedi di Margoni che batte a rete ma De Luca respinge nel recupero, padroni di casa ancora vicino alla marcatura, De Luca si salva in angolo dopo un batti e ribatti, finisce 2 a 1 e l'FCS supera brillantemente il primo turno dei playoff.